E buonasera, Piero Pio, Maria Adriordi, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è la festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Voi sapete, e io ve l'ho detto molte volte, che Padre Pio aveva lo spirito del profeta Elia e di Giovanni il Battista. E quindi, come dice il libro dell'Apocalisse, che non vuol dire fine del mondo, ma rivelazione, perché bisogna tranquillizzare la gente, visto quello che sta succedendo. Però la nuova era ce la doveva meritare. Quindi, nel Vangelo di Matteo, nell'undicesimo capitolo, Gesù dice, egli è quell'Elia che deve venire riferendosi a Giovanni Battista. Mentre nel diciassettesimo capitolo della trasfigurazione, che in chiesa leggono sempre un pezzetto, ma non arrivano mai alla fine perché sta scritta proprio questa cosa, a un certo punto al Signore chiedono, se prima che venga figlio di Dio non debba venire Elia. E Gesù risponde, è vero, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma in verità vi dico, Elia è già venuto, e voi non l'avete riconosciuto, compresero allora che parlava di Giovanni il Battista. E qui Gesù dice due cose. Verrà Elia perché sarebbe tornato in questo periodo dell'Apocalisse. Difatti, il libro dell'Apocalisse parla della riapparizione del profeta Elia e di Enoch. Non reincarnazione, riapparizione. Adesso vi voglio svelare una cosa che pochi sanno. La chiesa Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo inizialmente era dedicata, guardate un po', a San Giovanni il Battista. Per poi, chiaramente, visto che San Giovanni il Battista soggiornava proprio in quella chiesa, ecco che non si chiamava più, non era più dedicata a Giovanni il Battista, ma a Santa Maria delle Grazie. A cui padre Pio, alla Madonna strappato innumerevoli. Grazie. Perché la Madonna non sapeva dirgli no. Quindi, stavo dicendo che stiamo vedendo il momento che sta succedendo le cose che sono successe in Cina, scusate, in Russia. C'è una specie di rivoluzione. Il che però, se si dovesse anche come dire, se la fine dovesse essere in un colpo di Stato, vero e proprio, riuscito, non so se è un bene o un male. Attenzione. perché le armi nucleari Putin sa benissimo e non le avrebbe mai usate, secondo me, non le userebbe. Mentre quest'altro, che è un pazzo, secondo me, adesso mi faranno fuori per quello che ho detto, attenzione, non vorrei che oggi, la festa di Giovanni Battista, visto che nel libro dell'Apocalisse di Don Dolindo Ruotolo sta scritto che quando il grande monarca e il grande pontefice fossero stati detronizzati, ecco la riapparizione di Elia, Giovanni Battista e De Noca. Padre Pio ha detto io farò più chiasso da morto che da vivo. Quindi aspettiamoci il suo ritorno e quello è scritto perché il Vangelo è vero, sempre, non quando ci conviene o quando ci vogliamo, quando vogliamo nascondere le cose che non vogliamo far sapere. Come l'ultima parte della trasfigurazione di San Matteo dove dice chiaramente, riferendosi, gli chiedono a Gesù se prima della venuta del Signore del Figlio di Dio non doveva venire Elia, lui risponde così, è vero, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa, ma in verità vi dico è già venuto e voi non l'avete riconosciuto perché diceva due cose, verrà ed era venuto. Soltanto che ci vogliono sempre far credere quello che vogliono, come il fatto dei profeti che no, ma sì, è vero, dei profeti che ritorno, che riappaiono, ma tu non dire niente, ma lascia perdere, ma non ti preoccupare, lascia fare. Poi gli dici che viene il Signore, che c'è la venuta intermedia del Signore. Tanti sacerdoti cosa rispondono, ma non ti preoccupare, ma sai quanti anni non ci saremo più, 1700 anni. Questa è la venuta intermedia. Hai capito? Non è come dite voi tra 1700 anni, tra 1700 anni, c'è la fine del mondo. Non adesso. Adesso è il ritorno intermedio. Adesso il Signore fa giustizia. Oggi è iniziata probabilmente la giustizia di Dio perché è vero che il Signore non manda castighi, ma i castighi già li siamo procurati noi perché siamo tutti in guerra su questa terra. Perché la guerra non è solo fare la guerra con le armi, è fare la guerra al proprio fratello per 50 euro in più sul lavoro, per portare via la donna all'amico, raccontando sempre delle menzogne. Noi siamo più furbi, allora io mi invento questa menzogna, questa menzogna mi arriva allo scopo che io, dove voglio arrivare io. Cari signori, tutto questa, questa guerra, ce la siamo procurata noi, noi, con le menzogne. E anche adesso speriamo, speriamo, ma d'altronde Don Dolindo lo dice che ci sarà la grande guerra, quindi, ma tutti chiaramente speriamo, perché abbiamo tutti paura, anche se sappiamo che il Signore, se abbiamo fede, il Signore ci salva, anche come diceva la Giorgina, la ragazza siciliana, ci salva e ci porta via magari con l'astronave, oppure, chiusi in casa, gli angeli ci portano da mangiare, da bere, oppure siamo in posti che il Signore ci sceglie e ci dice devi rimanere lì per salvarti e lì non succede niente perché quella casa o quel posto è segnato come all'epoca del faraone, agli ebrei segnavano le case col sangue di agnello perché non fossero toccate. Ecco, se noi abbiamo fede non dobbiamo temere nulla ma ricordiamoci che questa guerra ce la siamo procurata noi con le nostre menzioni dal più piccolo al più grande e non dite ma se io fossi là al potere avrei agito in un'altra maniera facciamo mia colpa perché tu nella vita noi nella vita cosa facciamo? Non cerchiamo di portare via la promozione al collega? Non cerchiamo di far carriera magari alle spalle degli altri magari raccontando delle menzogne? Avete visto anche nel caso del Milan vabbè questo non lo voglio dire perché questo è sport lasciamo perdere però anche lì non è ben chiaro se uno se ne è voluto andare o tu gli hai imposto o tu gli hai imposto di andartene per i soldi quando una persona magari ama una cosa e tu gliela togli e questa persona cosa può pensare? Ma allora non c'è più umanità in questo mondo dove è finita l'umanità? Non c'è più non esiste io sono una persona che prima dei soldi guardo l'umanità e tu mi dici no vatti a prendere i soldi vai via ma cosa fai qua? fatene perché se no non giochi più per dire e uno è costretto ad andarsene anche una persona onesta io ho fatto un esempio calcistico ma è tutto così in tutti i campi si pensa solo ai soldi ai guadagni ma quanto pensate di vivere? che la vita vola ma se adesso lanciano un missile i vostri soldi che fine fanno? che fine fate voi? c'è un giudizio perché c'è il giudizio divino non crediate che non esista l'inferno l'inferno esiste come ha fatto ma i tre pastorelli ce l'hanno fatto vedere quindi non crediate di scamparvela il Signore è misericordioso ma è anche giusto ecco allora io vi ricordo sempre del quaderno dell'amore adesso non ho il numero dietro quindi però potete richiederlo al comitato Gaspari anche andando a vedere sul sito www.archiviogaspari.it e lì troverete anche le conferenze di Luigi Gaspari che oltre al libricino quaderno dell'amore che le parole di questo libricino che sono le parole del Signore descritte nel decimo capitolo dell'Apocalisse aprono il cuore quindi uno capisce veramente che arriva da Dio quella parola ma poi le conferenze voi dovete sentire quando parla Luigi Gaspari veramente io ho visto gente piangere dalla gioia che entrava quella gioia nel cuore e non se ne andava più ho visto una conferenza a Nizza c'ero anch'io gli ho dato una mano come a Milano ho visto le suore piangere dalla gioia per come parlava Luigi Gaspari all'archivio Gaspari oltre che il numero di telefono che lascio sempre che dovete mandare un messaggio su Whatsapp perché adesso non ce l'ho dietro potete richiedere anche due volumi delle lettere di Luigi Gaspari che ha mandato a diversi suoi amici che parla proprio di quello che gli diceva Padre Pio oltre a Padre Pio profeta dell'era dell'amore Padre Pio mi ha detto purtroppo sono esauriti i libri adesso si farà la ristampa quindi magari più avanti vi dirò di richiedere anche quelli quindi vi dicevo di mandare questo messaggio scritto e non parlato su Whatsapp a quel numero che adesso appunto non ricordo ma a parte il numero potete sempre richiederlo a www.archiviogaspari.it l'andate a cercare e anche lì troverete sia le conferenze che le conferenze anche audio quindi cioè anche sul mio il mio canale nelle community potrete trovare qualche qualche conferenza di Luigi Gaspari poi ci sono anche i clip dove parla appunto di Berlusconi e la lettera Berlusconi la trovate anche in quel libro delle lettere che vi ho appena detto il mio libro lo potete richiedere in libreria Padre Pio il terzo segreto di Fatima dove io ho scritto tutto di Luigi Gaspari del Don Dolindo Ruotolo che parla di questo libricino e della riapparizione di Elia ed Enoch che poi secondo me è Giovanni sicuramente Giovanni l'Evangelista era Davide e Luigi Gaspari che io ho avuto la prova perché me l'ha detto sia Padre Pio che Don Pio Mauro che era il mio sacerdote dopo che gliel'avevo detto io l'anno prima che morisse mentre l'anno dopo è venuto nel dormiveglia e mi ha confermato esattamente quello che io gli avevo detto cioè che Padre Pio era Elia che Luigi Gaspari era Giovanni l'Evangelista e quindi la riapparizione dei 144.000 mi dispiace che ci siano dei sacerdoti che dicano alle persone illuminate che non devono parlare di queste cose ma ce ne sono mille esempi vedete quando l'angelo appare a Zaccaria per dirgli che sua moglie Elisabetta avrebbe avuto un figlio che poi era Giovanni Battista oggi è la sua festa gli dice avrà lo spirito di Elia tuo figlio avrà lo spirito di Elia il Vangelo è verità sempre cosa dice Gesù a Nicodemo quando va a avvisarlo che lo vogliono arrestare per ucciderlo Nicodemo perché ti sorprendi se ti dico che devi rinascere un'altra volta ciò che è carne è carne il vento soffia dove vuole ma ciò che è spirito è spirito quindi ci sono diverse frasi nel Vangelo e nello stesso nell'Antico Testamento che si dice a Daniele Dio dice a Daniele vai pure a dormire perché ti rialzerai negli ultimi giorni e anche Daniele qua quindi non ci vengano a dire che non esiste la riapparizione di grandi profeti perché la riapparizione dei grandi profeti è qui e da oggi probabilmente oggi abbiamo conosciuto forse il nome dell'Anticristo vediamo vedremo perché nessuno lo sa però ci sono delle buone possibilità ma da oggi Giovanni Battista cioè Padre Pio inizia il suo lavoro col profeta Enoch ecco sostituiscono il grande pontefice e il grande monarca un abbraccio a tutti San Giovanni Battista Padre Pio Luigi Gasperi ci benedicano nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo buona serata a tutti